Ehi ragazzuoli, c'è quasi da commuoversi, il Sergio Ramos della Transilvania si è finalmente deciso, ha una certa capito che beh, nel momento in cui l'unica squadra che lo cagava di pezza era fondamentalmente il Genoa e la Juventus era riuscito ad inserirlo in questa contropartita per portare Cambiaso alla Juventus e lui dopo un po' di ghosting, infatti già solamente qui io mi scuso con quelli del Genoa perché io posso capire. Finché vieni ghostato magari da Di Maria ti possono girare le palle ma comunque il secondo fine potrebbe essere interessante l'idea magari di vedere Di Maria. Se inizi a farti ghostare da Dragosin e dal Sergio Ramos della Transilvania ecco tutto quanto inizia a prendere una piega un pochino diversa e i connotati della presa per il culo mentre invece oh almeno tutto quanto è finito come doveva finire. Almeno quello. E infatti proprio per questo motivo qui ragazzuoli vi invito a lasciare un bel mi piace perché comunque non guasta mai fino a prova contraria e si parla di un altro colpo in entrata e di un'altra plus valenza in uscita tra le altre cose che non sono mai robe banali queste qui. E se ancora non l'avete fatto vi invito ad iscrivervi e per il resto niente ragazzuoli nel senso di fatto grazie a questo sì che è stato atteso per tanto tempo sia da parte della Juventus che da parte del Genoa per capire poi come muoversi per la vicenda Cambiaso. Tutto è andato per il meglio. Dragosin sarà ufficialmente un giocatore del Genoa e soprattutto Cambiaso sarà ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus che penso sia la cosa decisamente più importante soprattutto vedendo quello che è il ruolo del giocatore. E noi lì siamo messi veramente come il porco ma quello proprio messo anche particolarmente male di porco tra le altre cose e vedremo che cosa la Juventus deciderà di fare. Innanzitutto perché per un periodo si era parlato anche di un'ipotesi prestito la Juve lo prende e poi lo giri in prestito e onestamente non non lo capirei non lo capirei cioè nel senso se per un motivo per un altro tieni anche Pellegrini potrei capirlo però nel momento in cui si parla di Pellegrini che ha diverse squadre in particolar modo poi in Premier interessate a lui. Mi farebbe strano no l'idea di rimanere con Alexandro Pellegrini hai preso Cambiaso e lo giri in prestito boh onestamente vedremo anche perché sarebbe sempre interessante vederlo alla Juventus questo ragazzo perché nel momento in cui tu parti con un duo formato da appunto Pellegrini e Alexandro far molto peggio è difficile quindi speri sempre che abbia la possibilità di giocarsi le sue carte e che nella stragrande maggioranza delle ipotesi potrebbe anche proprio significare fottere il posto ad Alexandro non è che ci vuole Alfonso Davis non è che ci vuole tu Hernandez però appunto speri che possa accadere anche perché ne abbiamo penso tutti quanti pieni maroni di Alexandro considerando che l'ultimo anno di contratto di si spera di riuscire a trovare uno che non solo non lo faccia rimpiangere che è pressoché impossibile ma che proprio ti faccia venire il barzotto ripensando che al posto di quello lì una volta c'era a Alexandro quella lì è semplicemente la mia speranza poi ovviamente non è che bisogna esaltarsi per cambiare sono sincero quattomeno io innanzitutto perché appunto per quanto riguarda i terzini sinistri abbiamo preso solo che dei pali negli ultimi anni quindi perché esaltarsi poi anche perché ragazzuoli di fatto è stata un'operazione che è proprio un investimento con la speranza che vada bene secondo me nel senso che darai quanto al Genoa cos'è 4 milioni e mezzo 5 milioni cash più dragos in una roba di questo genere 3 milioni 4 milioni cash adesso non mi ricordo neanche bene di quanto si parlava però appunto valuti un terzino giovane di belle speranze indubbiamente 8 milioni 9 milioni quelli che sono la metà te la prende un giocatore che tu gli dai come contropartita e se ti va bene bene se ti va male tempo 2-3 anni lo rivendi e tanti saluti nel senso non è che fai l'investimento da 40 milioni per il terzino che poi si rivela un flop della Madonna spendi per un ragazzo cos'è 3-4 milioni di euro cash più il Sergio Ramos della Transilvania e speri che si possa rivelare un terzino della Madonna tra l'altro a me spaventa anche abbastanza che lui comunque all'Alessandria si era spaccato tutto quindi è un altro che purino dal punto di vista fisico non sai bene quali garanzie ti possa dare anche l'ultima parte di stagione con il Genoa ha saltato tante ma tante partite proprio per infortunio quindi da questo punto di vista può essere anche un profilo ideale per la Juventus del futuro ma per il resto senza caricarlo neanche di particolari pressioni figurati si parla appunto anche dell'ipotesi di poterlo dare in prestito io spero di no io spero che già alla terza partita abbia abbondantemente fottuto il posto ad Alexandro però allo stesso tempo va preso con le pinze ecco un trasferimento del genere speri che si possa rivelare un colpo importante ma ti aspetti un pochino di tutto ecco io consiglio come al solito di sposare la filosofia del sperare nel meglio ma prepararsi al peggio ed è legittimo sperare nel meglio quando appunto riecheggia nell'aria quel nome brasiliano quel numero 12 ecco lì è legittimo è doveroso quasi ma per il resto non è che ti puoi aspettare chissà che cosa già qui è buona grazia che quell'altro è andato a dir di sì dopo che l'ha melata per una settimana sul fatto che fosse il Genoa e non Real Madrid quindi già probabilmente l'operazione è stato un successo per questa cosa adesso aspettarsi subito i risultati anche in campo mi sembra eccessivo onestamente ragazzuoli dai non è che si può volere tutto subito vedremo ovviamente vedremo e tra le altre cose è bello come così nel dubbio stamattina anche essio greggio su twitter tra i tanti insider di mercato che ci sono su twitter giustamente si è voluto aggiungere anche essio greggio che è l'altro nome caldo fondamentalmente questo qui a parte quelli già arrivati appunto cambiaso di maria e pogba ovvero che lui c'è l'uscito dicendo che fonte certa a zagnolo giocherà con la juventus la prossima stagione e vedremo ci aveva zecato con vlaovic qualche mese fa che ha detto che la juventus prenderà sicuramente vlaovic se la fonte è la stessa di zagnolo beh non mi stupirebbe per nulla effettivamente di vedere zagnolo con la maglia della juventus ma onestamente a prescindere da quello che ti dice greggio perché vedendo come si stanno evolvendo le cose fronte juve roma zagnolo ad oggi mi stupirei di più se alla fine di tutto non venisse alla juventus che è una cosa completamente diversa però stiamo a vedere a questo punto particolare attenzione oltre che alla pista torino monaco di baviera anche a quella torino roma perché tutto potrebbe prendere delle pieghe interessanti giustamente poi perché il tempo come dice sempre inizia a stringere e se vuoi fare e se devi più che altro fare una serie importanti di operazioni devi fare tutto adesso per non farti trovare impreparato quando sarà importante invece portare il risultato a casa cosa che purtroppo l'anno scorso non abbiamo fatto e i risultati poi purtroppo si sono visti detto questo ragazzuoli nulla io vi mando un grosso abbraccio e tanto per cambiare fino alla fine forza juve